Ragazze, buongiorno. Oggi forse giro un vlog, così, la cosa veloce. Siamo appena tornate io e Chiara dalla Coppa, siamo andate a fare il riformimento di gelati. Ce l'ha schiacciata, in alcune amore lo vuoi. Non ho ancora messo nulla a posto, ho soltanto... aspettate. I gelati perché sennò si squagliavano. Abbiamo preso i ghiaccioli, abbiamo preso questo qua, le monique. Poi abbiamo preso i conicinque stelle, alla Marena e al Croccantino perché erano in offerta. Ho preso dei cuscini su cui già Chiara si è seduta, sono questi qui. Ne ho presi due, sono fatti così, sono questi spessi. Voglio vedere come ci stanno nella panchina che abbiamo fuori. Ma questi sono abbastanza spessi che si possono mettere anche per terra, insomma, così. Ne ho presi due, c'erano questa fantasia e un'altra con le righe bianco, azzurro, rosso. Quindi ho preferito questi qua. E niente, domani arrivano i miei. Quindi devo riuscire a editare e caricarvi questo video entro stasera perché sennò... Poi si sa, inizia, non so, il degenero. Ieri ho fatto la tinta, non so se si vede che ho dei capelli di un colore non bianco. Ieri sera. E niente, che c'è, amore? Tutto ok? C'è qualcosa nella scarpetta? No, no, non c'è niente. E adesso metto a posto le cose. Ho preso il pesce, per Chiara, perché pensavo di avercelo e invece non ne avevo più. E quindi ho approfittato, ho preso anche per domani le vongole, quelli lupini, quelle piccolette. Domani ci vorrei fare la pasta, anche se mio padre non aveva la pasta col pesce. Però, insomma, domani vediamo. E quindi adesso devo metterle tutto a posto. E poi che altro abbiamo preso interessante, Chiara? Vediamo così l'altro che adesso ho messo a posto. Ma poi io ho preso, vabbè, queste mozzarella per Chiara, che a lei piacciono. Quelle del Conard, quelle piccoline che non sono proprio piccoline, sono dure. Invece queste qui sono più morbide, le mangio meglio, anche se sento colore. Ma non è fuori, per favore. Poi, sotto vostro consiglio, perché su Instagram ho fatto vedere i nuovi yogurt muller, quelli di seta. E mi avete detto, no, devi provare quelli soffio, sono fantastici. Quindi ne ho presi due. Ho preso questo qui, con le fragole. E questo che mi ha consigliato una ragazza, con mandorle e dolce di cioccolato, che secondo me farà libidinoso. Dove prenderne di più, però ho detto prima che è salvo. E' un yogurt bianco, perché penso che farò mercolato qualcosa di sicuro, perché qua è tutto bolle. Adesso ce l'avevo proprio la carta, tanto ci devo farlo. Ho fatto una colazione. Poi, le ho preso, come vi dicevo, il pesce, perché adesso dovevo porzionare, e le congole. E qui dentro c'è poi solo latte. E poi di altre cose interessanti che ho preso. A voi il pane. A voi il pane. Ah, ho preso il salmone. L'avevo preso al Conad. Mi sembra, ho detto, ci saranno anche miei, mi sembra poco, quando ho preso un'altra confezione, così ma per un giorno. Facciamo questo, le ciliegie. Chiacchieracca d'ora. E poi c'era questo caciocavallo in offerta, invece di 8,49 euro. C'era il risconto del 40%, quindi l'ho voluto prendere. E poi, ragazze, ho voluto prendere questo preparato per Red Velvet, della Molino Rossetto, perché voglio fare il giorno del confermio di Chiara, saremo solo noi la Red Velvet. Io l'ho fatta sempre con le ricette, quelle che fai tutto, insomma, insieme. Cioè, che fai tutto tu, senza preparati. La crema userò quella che ho sempre fatto, perché è la mia preferita. Però ho detto, proviamo, vediamo com'è. Perché a volte sbaglio la quantità del rosso e mi venivo rosa. Guardate qua. E poi, niente di che, fagiolini, peperoni, con un fiocco, un paccolino a scrina per mio padre, perché a lui piacciono. E poi il cacao amaro, che mi servirà. Basta, ragazze, metto queste cose a posto, così preparo da mangiare a Chiara. E poi più tardi vi faccio vedere. Una cosa per capelli che ho comprato per me, per Chiara, che mi seguisisse, che non me l'ha già visto. Comunque, adesso metto tutto a posto, perché se no, qua non usciamo più. Ragazze, sono le 4.20 e Chiara dorme da tipo 20 minuti, così, perché lo avevo portato a dormire, ma praticamente ho visto che non cedeva subito. Quindi ancora non aveva proprio tanto sonno. Ho detto, senti, metto a fare qualcosa e poi ci riprovo. E così ho fatto, infatti ho lavato di là nelle stanze, i pavimenti, e ho cambiato la zanzariera del banno. E poi, che altro ho fatto? Ah, adesso ho lavato tutte le cose che ancora non avevo fatto, visto che stamattina siamo uscite, della colazione, del pranzo, eccetera. E adesso volevo mettere i peperoni al forno, in modo che si cuociono. Io praticamente li pulisco, li lascio tipo interi, ci tolgo la parte del picciolo, del tappo, poi lo taglio e lo tolgo. Li metto sulla carta da forno e di solito lo faccio con la funzione crisp, ma se uno ha il forno normale, la funzione normale del forno, tipo a 200 gradi, così, senza mettere olio, senza mettere nulla, li faccio cuocere. E poi, quando vedo che sono belli cotti, belli morbidi, eccetera, perché poi si vede, si ammosciano proprio, li tiro fuori, ci tolgo tutta la pelle, li taglio all'istare, li faccio tipo conditi con olio, Vabbè, il sale ovviamente, perché i peperoni senza sale, sale e olio, e uno spicchio d'aglio tagliato piccoletto, se ci avete i capperi ci stanno molto bene, qualche capperino. E poi ci mette magari un cucchiaio scarso di aceto, insomma, un po' in base alla quantità, però si possono fare anche benissimo solo con l'olio. E vengono praticamente non fritti, perché sono fatti al forno senza olio, senza nulla. E poi chi non li digerisce tanto per la pelle, la pelle viene facilissima a toglierla così, e quindi non metto a fare questi. Poi devo rassettare un attimo qui, che prima chi era giocato, e c'è un po' di macello, e poi torno di là, spero che ancora lei non si sia svegliata, perché adesso che i peperoni cuociono, io vado facendo il resto, vado a finire di là di fare qualcosa, e poi devo rassettare il macello, che c'è praticamente dappertutto. Devo anche, praticamente dovrei togliere i fiori secchi dal mazzo che mi è arrivato di Colvin, mi è arrivato più di una settimana fa, alcuni fiori sono ancora buoni, ma pochissimi, non so se si vede. C'erano le gerbere dentro bianche, che sono totalmente secche, quindi adesso vedo un attimo. Così levo di mezzo, insomma, anche il vaso nel caso in cui non ci siano sopravvissuti, anche se alcuni li vedo che sono ancora bellini, quindi forse li lascio, e basta. E poi li vedo, man mano che avanziamo, quindi devo anche fare questa cosa. Per ora ho il codice sconto attivo di Colvin, quindi se vi dovesse interessare, giù nell'info box ve lo scrivo, perché l'avevo tolto perché era scaduto. Poi voglio farvi delle due cose, così poi mi metto a fare le cose e basta. Sono comprata una cosa, e mi sono arrivata altre due cose, anzi, tre, perché vi voglio vedere anche dei prodotti per pulire. Aspettate. Vi ho questo consiglio anche su Instagram, perché io non sono per niente esperta di queste cose, e devo comprare, infatti, delle cose apposite. Comunque mi era arrivata, forse qui non ve l'ho fatto vedere. Lo aspettate. Praticamente dal sito di Pat McGrath ho comprato, c'era lo stato, li ho messo subito su Instagram, quindi seguitemi su Instagram, perché magari se è una cosa più veloce, io ve lo dico subito, mi saranno gli sconti, ma sconti, su alcuni prodotti, tra cui c'erano anche dei rossetti stupendi, due che già io in mini taglia, quelli tipo piccoli piccoli piccoli, però hanno messo in sconto anche questo qui. La confezione era questa, esterna, di quelli matte. La confezione era questa, fatta così. e io ho preso di Porchid dei Matte Trance Lipstick, è rosa, con questo disegno, sono tipo dei fiocchi, degli sbriocchi. Il rossetto è il rossetto più bello come pack mai visto, ma anche come colore, credetemi. E' questo rossetto rosa, ma in mano, non è per niente cipo. E' all'interno, questa è la meraviglitudine. Ne vogliamo parlare? L'ho pagato sulle 20 euro, come un rossetto MAC, compreso di spese di spedizione e tutto quanto. E' molto, molto, molto contenta di averlo preso. Quindi mi sa che non ve l'avevo fatto vedere. Infatti l'avevo lasciato in mezzo proprio per questo motivo. Poi da Pixi mi è arrivato questo marsupietto. Perché Pixi una volta che poi vi spedisce le cose, cioè che vi mette nella lista di popier, chi non lo sa che magari ragazze che fanno video, che hanno un blog, basta che voi vi registrate sul loro sito, non so, tipo si manda un form, e loro poi, senza che vi avvisano, vi mandano le cose. E c'era questa palettina, tutta glitterazza, glitterosa, queste salviettine di struccanti, diciamo. Qua vi c'erano questa crema viso in gel e poi questo, cos'è, tipo glosso che non l'ho ancora aperto. Poi le scritte, scritte tutte tipo in trasparenza, cioè comunque questo qui, l'ho fatto così. E poi c'erano anche questi tatuaggi, di orati, per chi li ama, tipo in spiaggia, e anche, sono per le serate, quindi, fa vita mondana, facciamo io. E sono molto, molto carini. Chiaro, ovviamente, non mi ha lasciato nessuna confezione, perché ha strappato tutto, in un confezio proprio. Il nostro vetto è molto carino, se andiamo, se arriviamo ad andare al mare, ci metterò delle piccole cose che non voglio, si metterò nella sabbia. Poi ho preso, ho comprato, una ragazza su Instagram che le vende, si chiama i cecci. So che fa anche i mercatini, ho preso due fasce, una per me, e una per Chiara. Questa qui, per me, vanno all'interno un filo, un'anima di metallo, che, serve per poi modellare, la fascia in testa. Adesso, avrei dovuto levare i capelli, non so manco come l'ho messa, perché non mi sto guardando da nessuna parte, ma comunque, ho capito, così, e poi si può mettere anche più larga, e l'ho preso uguale per Chiara. Questa qui, mamma e figlia. Adesso le ripiego, un attimino, perché voglio metterle, quando andrò da qualche parte, farci una bella foto, mamma e figlia. L'ho messa la telecamera troppo bassa, e quindi mi taglio la testa, ma non ho molto tempo per alzarla, perché so che poi si sveglia. E poi, visto che ci sto, ve lo faccio vedere, cos'è questo foglio qua. Scusate, la banca, non c'entra niente. Viene inviato da una pagina Amazon, vi lascio sotto il link, questa lampada, per le unghie. E sia LED che UV. Praticamente volevo prendere, mi avevo parlato su Instagram, di Laila, la base, quella pilota, per fare sempre la lampada. C'è il suo filo, e poi c'è la lampada. Se qualcuno ti vuole con la base naturalata, fatemi sapere, voi me ne avete consigliato tante. un'altra macchiettata, tipo una lampada della discoteca, però. Questa qui. E niente, io non avrei mai il tempo, di poter andare dalla lestatista a farlo, quindi praticamente, l'ho fatto scegliere tra varie artiglie, poi alla fine ho scelto questa, perché è un'altra cosa che volevo per la cucina, invece non c'era disponibile, quindi ho scelto questa lampada, e quindi mi voglio adesso prendere degli smaltini, così magari per ogni tanto tengo le mani sistemate, visto che le tengo sempre in casa in alto. E basta. Adesso metto a fare qualcosa, anzi non volevo far vedere l'ultima cosa, un'azienda che si chiama PH Green, italiana, mi ha mandato dei prodotti igienizzanti, mi hanno chiesto se, mi interessava insomma provarli, riceverli eccetera, non mi hanno chiesto di fare nessuna recensione, né nulla, comunque ve li volevo far vedere, perché li vendono sia sul loro sito, sia su Amazon, siccome però è un periodo in cui siamo un po' più tutti alla ricerca di prodotti igienizzanti, magari mi possono fare comodo, allora, mi hanno mandato due di questi, diciamo, tagli piccoli di detergente mani, che si possono mettere in borsetta, e una, questa qui col pump, molto comodo, da tenere per esempio anche all'ingresso a casa, se magari lì per lì devi, prima di andarti a lavare le mani, devi fare qualcosa, intanto ti igienizi un attimo le mani, e poi, insomma, dopo che ti sei liberato, eccetera, vai a fare le tue cose, insomma, e te le vai a lavare in bagno, ovviamente, se sei a casa, meglio lavarsene in bagno, poi mi hanno mandato questo spray, al 90% alcolico, che va bene anche per la macchina, i computer, i tavoli, le scrivanie, infatti dice, spruzzare sulla porta, e trattare, e lasciare agire qualche seconda, prima di rimuovere, con un panno asciutto, e quindi, molto comodo, e questo mi hanno detto, anche ottimo loro, che si chiama, PH Sun, mentre questo, Sunny 90, e mi hanno detto, che questo qui, che ha l'80%, va bene anche, per togliere, se i bambini, per esempio, quei pennarelli colorano, da qualche parte, dice che è ottimo, e rimuove, anche, i colori, insomma, che i bambini lasciano in giro, e io con questo, ci igienizzo, a volte, il seggiollone, il seggiollone, diciamo, della stocca, di Chiara, il tavolino, dove lei sta lì, a disegnare, e mi piace molto, insomma, sono dei prodotti, made in Italy, fatti bene, secondo me, perché, comunque, con gli spruzzini, e tutto quanto, sono molto comodi da usare, e niente, basta, la smetto, metto a fare cose, perché sennò, si sveglia, e io ancora non ho fatto, una cippa, partiamo dai peperoni, e poi, procedo, non ce la farò, ecco qui ragazze, sono cotti, adesso andrò a togliere la pelle, poi, insomma, li taglio a pezzetti, e li metto, con diti, in una, bella ciotola, e stanno pronti per domani, ci vedo un colore strano, qui nella, perché forse erano parti verdi, va bene, quindi, il primo contorno, ce l'ho già pronta per domani, yeah, ragazze, buongiorno, sono le 8 di mattina, poi ieri non ho filmato, chissà che, comunque, intanto, vi volevo salutare, chiudevo il vlog, perché mi stanno arrivando, sono veramente felice, e, mio marito è andato in aeroporto a prenderli, sono qua, Chiara si è sveglia prestissimo, stranamente, non si sveglia mai così presto, cosa ha un bluco, no? Siamo qua, e, e, volevo far vedere i peperoni, poi quando li ho fatti, li ho conditi, sono così, sono buonissimi, e, soprattutto, molto leggeri, eccoci qui, salutiamo, siamo felici, arrivano i nonni, guardate che siamo abbinate, tutte e due con Minnie, sei più bella, amore della mamma, che sei stupenda, e, e niente ragazze, e spero di editarvelo, non so se ce la farò entro oggi, io ora, ci provo ad editarlo già, adesso, prima che arrivano, perché poi dopo penso che sarà ancora, più complicato, perché poi il computer ce l'ho nella stanza, dove stanno i miei, quindi, oi amore, e, quindi insomma, questo comunque, mando un bacino, e, sì amore, mando i bacini, ciao, 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 e, ci aggiorniamo presto, spero, però su YouTube, lo so che sono un po' assente, su Instagram sono più presente, ma, come dico sempre, su YouTube è più complicato, perché, bisogna girare, poi editare, poi mettere online, quindi ci vuole più tempo, e a volte io, non ce la faccio, non ci riesco, perché essendo sola, non è facile, mentre su Instagram, facendo un attimo il telefono, vi faccio un salutino veloce, e già, insomma, mi sono fatta viva, e, niente ragazzi, vi mando un bacio, e ci aggiorniamo alla prossima, ciao,